Per fare la strada? Ehi, 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 ehi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Questa è sportiva. Una macchina sportiva di allora. la città. La città è la città. La troviamo. E se la trovavamo subito, la finito gioco. Guarda cosa giurta. Eh no, dovevamo trovare la città. Sì. Sì. Ma da qua dobbiamo tornare indietro? Sì. Perché sai fare scocciati? Eh, proprio male. Sì. Non c'è niente. Voi sai cosa c'è su? Lo scotch sui fanagli. Come mai vengono giù i fanagli? C'è fai. Sì. 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 Sono molto bella, è un'antempo. È un'antempo. È un'antempo. È un'antempo. Grazie. La torre è di più importanti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.